Sono stati i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Margaritone a lanciare ai Novax un messaggio forte e chiaro con l'installazione di fronte alla loro scuola della panchina della legalità. Una decisione presa dagli stessi studenti dopo i fatti che hanno riguardato l'Istituto Comprensivo le scritte Novax di fronte all'ingresso e in una strada secondaria. Durante la cerimonia del taglio del nastro i ragazzi hanno voluto rivolgere alcune domande inerenti proprio ai fatti subiti al magistrato Marco Cecchi presente all'inaugurazione. Il gesto si ha convolti, prima di tutto perché l'abbiamo vissuta come una sorta di violenza soprattutto per come è stato realizzato. Vogliamo chiedere a lei se questo atto si può considerare un reato ed eventualmente che tipo di reato si tratta e che tipo di punizione si prevede. È oggettivamente una forma di violenza quella che avete subito e molto probabilmente chi lo ha fatto intendeva agire in questo modo aggredendo la vostra sfera personale, i vostri pensieri, il vostro modo di comportarvi intendeva condizionare voi per condizionare tramite voi i vostri genitori. Quanto al tipo di reato bisognerebbe fare una distinzione tra quello che oggettivamente è sporcare per terra in un bene pubblico e la portata invece di ciò che rappresenta quello che è stato scritto sporcando per terra. La manifestazione del pensiero nel nostro sistema è libera però deve rispondere a determinati criteri. In questo caso non si trattava di informare qualcuno o voi in particolare di qualcosa ma appunto di condizionarvi. In questo può essere difficile ravvisarci un reato. Sicuramente c'è qualcosa di illecito nell'aggredire una struttura pubblica e sporcarla. Quanto al resto il messaggio nella parte in cui parla di diritti e quindi sembrerebbe far pensare che chi lo ha fatto voleva rivendicare un proprio diritto io vi ricordo a voi, lo ricordo a me che sono tenuto a applicare la legge che nessun diritto nasce illimitato. È sempre limitato dai doveri che lo accompagnano e dai diritti degli altri. In questo caso è il vostro diritto a formarvi da voi un'opinione su questa cosa senza che qualcuno vi costringa a pensare in un certo modo. Nella scritta compare il riferimento al secondo comma dell'articolo 32. Ci può aiutare a capire di cosa si tratta e perché questo articolo è utilizzato nella propaganda Novax? Proprio come ha detto lei è il secondo comma dell'articolo 32 perché c'è anche un primo comma e il primo comma dice che la Costituzione tutela la salute dei singoli individui e dell'interesse della collettività. C'è una E che li congiunge. Ci sono manuali interi che parlano del perché prima si parla dell'interesse della salute del singolo e poi l'interesse della collettività. Ma è indubitabile che vanno di pari passo. Al secondo comma poi c'è scritto che effettivamente nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Allora, in questo caso il trattamento sanitario non c'è ancora se non per determinate categorie di operatori e è stato disposto con legge. Esiste un articolo, l'articolo 16, che i Novax non citano mai, che dice che è vero che i singoli cittadini tutti hanno diritto di spostarsi liberamente salve le limitazioni che possono derivare da ragioni di sanità e sicurezza. In questo caso c'è una ragione di sicurezza. Probabilmente nessuno legge mai i decreti legge che sono stati fatti. Ma nei decreti legge si è richiamato. Si è richiamato l'articolo 16, l'articolo 117, che prevede altre cose ancora. Però è chiaro che quando si va per slogan si semplifica il messaggio perché deve essere brutale, secco e dare una parvenza di legittimità a quello che si fa. La parvenza però non è la legittimità. Come pensa che si dovrebbe reagire a provocazioni di questo genere? Informandosi, dando informazioni, fornendo l'adeguata base per fare una valutazione critica su queste cose. Per esempio, leggetela la Costituzione, leggetela per bene, leggetevi questi articoli, appunto, il 16, il 32, il 117. Il metodo migliore, al di là di tutto, è informarsi. E fornire informazioni anche a chi si comporta in questo modo, che in alcuni casi lo fa in mala fede, in altri casi forse lo fa anche in buona fede e magari preda più delle proprie paure che della propria mancanza di conoscenza.